Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e oggi andiamo avanti con il terzo episodio di questa campagna con Call of Duty Infinite Warfare mi avete dato tanti consigli su come appunto esporverla, ho inserito i sottotitoli ragazzi quindi adesso li ho messi nei momenti dei filmati magari toglierò la camera come mi avete chiesto, insomma cercheremo di lavorare un po' meglio riprendiamo questa campagna, riprendiamo questa partita, mi raccomando se vi siete persi gli ultimi episodi in descrizione trovate la playlist dove potete vederli appunto tutti quanti e insomma potrete seguirli, farò degli episodi un po' più corti, 30 minuti effettivamente sono tanti magari li facciamo da 20 così li potete seguire con più calma, insomma effettivamente capisco che 30 minuti siano tanti che dire, parliamo di meno ragazzi e andiamo a giocarci questa campagna, questo terzo episodio di Call of Duty Sala C, guardia costiera in arrivo Alfa guardia costiera 1, stiamo per arrivare Ok Ma onesto, come si usa lo scudo? Ok, L1 o scudo? Ok Scudo Cazzo ma non posso caricare con lo scudo, fanculo Corpo a corpo, ok Ma perché non li prende? Sta cosa devo capirla, allora Ok Ok, caricare o caricato? Ok Vabbè, fortuna che ci sono i vostri compagni No, è quello là che se non gli spari da dietro non gli fa niente Porca boia Sto cazzo, girarci intorno Ok, forse meglio di no Ancora lì lo vedo Carichiamo Oh ma distra... Oh cazzo, arriva Raga, distraetelo Cazzo Via, 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 via Meglio se carico Adesso lo piglio da dietro, eh Cazzo, ma visto, bastardo Sparategli Cazzo ci sono solo io Ma chi è che spara oltre a noi, scusate? Io non vedo nessuno Ok Sono troppo vicino Muori, muori, muori Che cazzo Grande Andiamo a star una figa Oh Cos'è sto roba? Lancia granate? No, ciao Questo Il terminal è sicuro dietro di noi Evacuate i feriti Minchia quanti feriti Ciao William, andrà tutto bene Ci siamo arrivati Arrivò Andiamo SDF Ma cazzo Mette qua, bastardi Dai Ok Penso io, raga Credo, eh Cazzo Cazzo Ma dov'è? Preso Ok, non essendoci una mappina del cazzo Non riesco neanche a vedere Ok, avanziamo È là dietro, bastardo L'ho visto Vieni fuori Vieni fuori Oh, ti vengo a prendere Te lo giuro Ti vengo Puttana troia Cazzo Cazzo Vai 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 eh sti cazzi sta arrivando 44 35 di ossigeno dai 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 20 vai aprilo madonna mi mancava quasi lo sigilo anche a me ragazzi mamma mia check point raggiunto intanto ok ma non ho esatto troviamo l'arma al capitano armeria poco più avanti seguitemi andiamo andiamo ti seguo sì qui va bene armeria ok allora raven calcio ulteriore raven reflex fucili mitragliatrici ci voleva queste granate sono efficaci contro i robot ecco tenetele alla larga da me qui c'entriamo che cosa c'è mai potenza mi tutto bombe ok le munizioni le ho ok questo cos'è ok no questa è quella munizioni sì vai vai per me possiamo anche andare vai forza ragazzi come on oh che puttana no ma c'è il vetro poi così mi piace quello è ferito dov'è uccisione ok fate cosa da come scappa fatemi riprendere le munizioni va ok ah ce ne erano neanche qua eh morto 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 cazzo c'è un cecchino là in fondo do vittio bastardo oh non riesco mica ma puttana ma tu sei con me o cosa cazzo questa arma ci vogliono due anni caricarsi però eh adesso li vado a prendere dal lato guardalo ma porca bastardo morto 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 ok impegnativa sta cosa eh voi siete tutti con me spero vero se no mi ammazzo tutti lo dico granata muori muori oh chi è che spara là là ricarichiamo va ci stavano ammazzando sti bastardi moriranno sti bastardi eh cioè c'è un altro anche là ma perchè non lo prende è là bro è là è là ok ci siamo come terminate figiale come lì cazzo quanti sono madonna mia andrà la granata ok è libero un cazzo porca troia sarà un po' di munizia di qua felice di vederti felice è proprio un cazzo adesso raga quei gecoli sono lì per noi blocca la porta soldato ricevuto dai bro a questa porta le ammazzo io top sei autorizzato al lancio affermativo allora facci partire allora partiamo borderemo una miraglia nemica per abbatterla la fase terrestre dell'operazione è conclusa agli scarco e l'aerea sarà il suo battesimo di volo ho un bel coraggio capitano uomini resistete manderemo qualcuno azioniamo l'ascensore bene quali sono i miei ordini vieni con noi signor si vieni bomba e itan omar consulter itan tu stai con me non è un'esercitazione molli il robot dammi un bacio itan ho già deciso servizio oh cazzo prendiamo il volo itan dove andiamo fammi strada bomba no qua ok no vediamo anche stavolta mio dio l'altra volta già vi dai mi sono ammazzato va bene ugelli a posto votori ok siamo pronti a prendere il volo mincia che bordello ricevuto partiamo dai si parte ok oh cazzo morto oh cazzo vai prendilo prendilo ok olepre no è lì ah non voglio che morire basta oh mio dio e aiutiamo la tigris siamo quasi quella si è schiantata ok lui mio vai 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 ok oh cazzo puttana se è grossa quella no madonna si è schiantata dov'è la nave vai 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 che bordello mamma mia spaccatela mamma mia che bordello ok adesso ci abbiamo fatta che bombe affermativo scar pronti al lancio orbitale dove andiamo bombe est adesso ci potrei lanci dove ah l'ho trovata buono 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 autosporto ci vediamo autosporto non si è attivato si parte here we go rider danni al motore di sinistra della tigris serve supporto immediato rider in arrivo per abbordare la nave nemica attendere vai 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 usciremo dalla brua a bordo poi entretti in plancia una volta dentro disattiveremo plancia e armi di poppa ok è finito il lavoro preferisco il lavoro da terra però a quel punto la tigris aprirà il fuoco cioè o perlomeno contatto cioè gestendo l'omino ecco diciamo così lo vedo tigris contatto visivo c'è l'autopiloto ok ho visto e mi fanno sparare se mi fanno sparare faccio fatica ok ok no 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 ok adesso ho capito come funziona ok 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 trovato ok ok quanti sono sti qua morto ma no una cazzo di mappina voglio una mappina io mamma la che figata fate qualcosa per quegli schelter cioè raga fate qualcosa ma quella esplode per dire si esplode certo che però sono troppie a parte dei cadaveri stando levitando comunque non si riesce a capire quali sono quelli vivi e quelli morti cioè quello è morto ricevuto tigris siamo all'esterno della plancia irrompiamo vai vai irrompiamo irrompiamo rimando in corto bravo e adesso forza andiamo sergente copra l'uscita Ethan disattiva le armi principali agli ordini solta le finestre e adesso la gravità che bella cosa serve il tesserino del comandante andiamo a prendere questa tesserina ciao comandante grazie tigris armi principali fuori uso passiamo alle secondarie ricevuto giù per il pozzo dell'ascensore via ah così proprio ok va bene il controllo di poppa è vicino ok fatemi andare avanti a meo ok piano 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 zitti zitti ci andiamo per un cazzo no dove sta oh ok non ne vedevo più attenzione attenzione contatto ags in arrivo si pronti alle manovre di combattimento in basso ok la plancia è fuori uso sappiamo dove sono ok se facciamo tutta la nave quali se ne vanno ok che facciamo raga che non capisco se devo ucciderli vado spazziamoli via ok dovevo farli fuori al lavoro disattiva le armi secondarie bene bravo io sto qua arrivo eccolo qua cazzo questo tesserino buono buono le armi sono bloccate capitano ho trovato qualcos'altro cosa hai trovato avranno posizioni di navi nemiche puoi scaricare già fatto capitano bene andiamo digris armi fuori uso ci dirigiamo all'uscita sergente ci porti fuori ok via cazzo ok via 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 furgone si ma se non mi fai sparare testa di cazzo roger attacco in corso attenzione forte andiamo ok dai 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 uh l'armeria è sempre bella è sempre bella l'armeria cosa c'è qua vai vai potenza tutto qui cosa c'è no direi che abbiamo preso tutto quello che ci serviva dai via 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 Pietro più esperti vengono vengono per vi riktà non ma ne Quanti cazzo sono? Cazzo Come dà la sala di controllo? Procediamo alla sala di controllo Vai, vai, vai Ok Morto 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 Marca puttana La Ah no, Ethan, grande Ethan Madonna, fortuna che ci sia Ethan Oh, questa cosa mi piace Molto più facile Tigris, servono Jekyll E adesso? Cazzo che sparo Bene, andiamo Guarda che arma figa Ok Madonna mia Via, 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 via Procediamo all'attacco È la faccia dell'attacco Sta massacrando Top, grandi Bravi ragazzi Bravi ragazzi Bravi ragazzi Bravi ragazzi Ammiraglio Ammiraglio 6 ore prima dell'attacco Roger Ammiraglio Procede Oggi Il fronte inizia la conquista Da questo momento Noi eradicheremo L'autorità e l'influenza della terra Il nostro mondo Sta per nascere Il loro Sta morendo Questo è il città Il nostro voida libertà Non è abbastanza Noi li distruggeremo Le loro città Bruceranno con le pagine dell'autor Marchese Capitano Si fermeranno solo dopo aver preso la terra Ci stiamo giocando tutto Ricevuto signore No, no Giocando tutto in cazzo Ho aggiornamenti sulle riparazioni Hangar di nuovo operativo Molto bene Stenderò subito un rapporto sull'operazione Ethan accompagna il sergente Aiutalo col rapporto Signor sì Ok Posso arrangiarmi Questo lo so Ai tuoi ordini Ethan Confermo capitano Sono una bella coppia eh Peccato perdersi lo spettacolo Io scommetto su Omar Io su Ethan Anch'io voglio scommettere su Ethan Ha bordato una nave nemica Certo Non posso smentire né confermare Lo prendo come un sì Un sì bello grosso Basta questo per entrare nella storia Saliamo Reyes Vediamo cosa Siamo nella storia Pazzescamente incredibile E cioè Beh O li rispingiamo con queste squadre d'assalto improvvisate O O Il set d'Effere spinge noi con un blocco navale e tanti saluti alla terra Torneremo a casa Solt Lo so Oh yes Capitano Tenente Tenente Stai iniziando un notiziario sulla battaglia del gateway lunare Io passo Andiamo a vedere I notiziari non fanno cura Telegiornale Dov'è che si guarda qua? Dov'è che si guarda qua? Ci sarà da divertirsi Gli scontri sulla superficie lunare Sì Zitti Inizia Sky Il porto lunare è il principale punto di transito di merci e passeggeri per la terra Un'operazione congiunta tra la guardia costiera del gateway e forze militari speciali Tra cui la squadra SCAR della Marina e i Marine UNSA Ha costretto il 7er a ritirarsi Viva la Marina Viva la figa Giornalista forze amate UNSA URA! Olè UNSA Vai Retribution Vai Degree Si sboccia allora qui eh Cioè Datemi la bel vedere Cos'è questo? Eh posso guardare tanti video, trasmissione nice Non ci interessano i video Bene ragazzi direi che per oggi può essere tutto Spero che questa serie comunque vi stia piacendo Vi stia prendendo Insomma Finiremo questa campagna sicuramente fino alla fine Per chi guardava anche The Journey Sto aspettando che esca in italiano Ragazzi così lo finiamo in italiano Almeno se no Voglio dire Tutte le volte in inglese Almeno diamo qualcosa di nuovo Se siete mai iscriviti del canale In descrizione Facebook e Instagram Per stare sempre connessi Mi raccomando mi piace In descrizione trovate tutte le playlist Se volete vedere altri video FIFA o gli altri episodi Comunque di COD Se vi siete persi Che dire Grazie del supporto E come sempre Ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti